Oh, ma che cosa? Oh, oh. Emergenza del Junkin Stuff. Ok, gente, siamo in diretta fra 5, 4, 3, 2. Ehi, ciao, Swellview! Non ci credo, non ci credo, non ci credo! Allora? Sei Morgan, make you! In persona, e sono qui per un pasto con Morgan! È lui! Quello è? Morgan, make you! Sì, è il mio chef preferito in tv! Può essere, ho tutti i suoi libri di cucina! Davvero? Sì, ho pranzo con Morgan, bontà di Morgan, acquolina in Morgan, più grassi con Morgan! Oggi siamo qui in un negozio che si chiama Junkin Stuff! Adoro la tua energia, grazie! Siamo qui da Junkin Stuff! Oh! Siamo qui da Junkin Stuff con... Morgan, make you! Esatto! Ma tu, come ti chiami? J.J. Grandmaster Boogie III. È il tuo vero nome? No. È Jasper, Jasper Dunlop. Noi perché restiamo qua giù se Morgan, make you, è di sopra a preparare un banchetto? Perché siamo idioti! Andiamo, forza! Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Spostati! Levati il torno! Usate, Charlotte! Ragazzi! Vi ho appena detto che ho spento l'ascensore! Allora riaccendilo, che aspetti! Non lo posso riaccendere fino alla fine dell'aggiornamento! Il tubo! 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 Ragazzi, 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 ragazzi! Vi ho detto che ho spento anche i tubi! L'ascensore! Prima io! Levati! Jasper, ti piacciono gli antipasti? Certo, mangerò quello che vuoi! Quindi prepari il sushi come antipasto? È all'aspetto del sushi, ma in realtà all'interno ci sono maccheroni filanti! Accidenti, Morgan! Perché, Schwartz? Perché ci hai intrappolati qua sotto? Aspetta, aspetta, aspetta! Te l'ho detto che stavo staccando l'alimentazione ai tubi e anche all'ascensore! Lo sapevi! Lo sapevano tutti! Ok, beh, puoi riaccendere i tubi e l'ascensore per 10 secondi? Sì, abbastanza per salire e andare in diretta con Jasper! Ma non si possono interrompere gli aggiornamenti! Ok. Ray, che dici? Come possiamo fare a... Ray? Cosa? Ma dai! Ehi! Ray, che ci fai là sopra? Voglio conoscere Morgan McEwitt e partecipare al programma! Ti vuoi arrampicare? Per un chilometro? Su per il tubo? Posso farcela! Ne sono sicuro. Ma se per te non ci credo! Credici! Ok, Jasper. Vuoi assaggiare i miei speciali sushi roni sushi filanti? Morgan, posso davvero? Assaggia! Ok, non ho capito una parola, ma ti conviene ingoiare, perché tra pochi minuti io ti preparerò ancora di più! I miei piatti deliziosi sono qui a... Alla televisione! Ah, un pasto con Morgan! In televisione! È un nuovo giorno, da Fred Lobster! Avete... avete sentito? Ora Morgan McEwitt preparerà Jasper tutti i suoi piatti! Già! E possiamo solo guardarlo mangiare da un sottoscala! Scala! Cos'hai urlato? La scala! Possiamo usare la scala per salire al negozio! Sì! Dai! Andiamo! Scusa! Sì? Siamo un chilometro sottoterra! Certo! E... credi forse che possiamo salire un chilometro di scale? Certo! È divertente! Sarà divertente! Dai, andiamo! Sì! Sì!